I miracolati della notte di Natale a Caltagirone, in parole semplici fortunatamente illesi. Un forte boato, una BMW semi distrutta, il portone d'ingresso di una civile abitazione all'altezza del civico 124 seriamente compromessa e pezzi di carrozzeria sparsi qua e là nel raggio di una decina di metri. Questa è la risultante di un incidente stradale autonomo che è avvenuto stasera intorno alle 20.30 circa lungo la centralissima via Roma. A bordo della BMW viaggiavano due giovani che sono stati entrambi soccorsi dai sanitaria del 118 e condotti in ospedale per le cure del caso. In considerazione della dinamica sono stati miracolati in quanto erano coscienti ma seriamente spaventati. La BMW percorreva la via Roma in senso ascendente quando, per causa ancora al vaglio dei carabinieri, il conducente della stessa, dopo aver perso il controllo della vettura, è salita sul marciapiete cozzando dapprima contro il portone di un'abitazione finendo rovinosamente la corsa una decina di metri più avanti. Il traffico ha subito rallentamenti anche se i carabinieri, dopo aver appreso velocemente la dinamica, hanno fatto defluire le macchine che erano in colonna.